Parliamo appunto di quella che deve essere la sostenibilità delle nuove importanti opportunità che abbiamo sul fronte oncologia. In realtà diciamo che dobbiamo andare a capire bene prima di che cosa si parla quando si parla appunto di sostenibilità per quanto riguarda l'oncologia. Sostenibilità va inserita all'interno di quella che è la spesa ospedaliera che noi sappiamo da tempo essere in continuo sforamento perché il budget che viene fissato a inizio di ogni anno in realtà già sappiamo che sarà sicuramente sfondato e sarà sicuramente oggetto di ripiano da parte delle industrie del farmaco. Allora di fronte ai 3 milioni di italiani che oggi hanno bisogno di cure contro il cancro e che hanno bisogno di tutta quella che è la nuova innovazione. Noi oggi disponiamo di farmaci che fanno da gregario per quello che è il nostro sistema immunitario naturale e quindi che consentono non solo di vivere più a lungo ma consentono nettamente una migliore qualità di vita. Ovviamente sono più costosi perché sono in repository l'eccellenza per definizione tutto quello che è l'innovazione. Allora come poter contenere questa spesa o meglio come poterla allocare meglio questa spesa? L'obiettivo è appunto quello della discussione di oggi che è quello di cercare di trovare delle soluzioni perché delle soluzioni ci sono. Per esempio la prima soluzione sarebbe quella di incorporare la spesa ospedaliera farmaceutica all'interno di quella che è la spesa ospedaliera generale. Questo ci consentirebbe di andare a capitalizzare su tutti quelli che sono i risparmi che un buon investimento su farmaci innovativi necessariamente generano sulla spesa ospedaliera stessa. Se questo non fosse possibile allora un'altra operazione che potrebbe comunque dare la possibilità ai cittadini italiani di poter avere un accesso uguale in tutto il territorio italiano e senza ritardi per quanto riguarda l'innovazione sarebbe quella allora di scorporare per esempio la spesa farmaceutica per l'innovazione e inserire anche solo questa all'interno della spesa ospedaliera. Oppure una terza opzione potrebbe essere quella di creare un fondo speciale per i farmaci oncologici, un fondo che secondo quello che anche l'IOM raccomanda potrebbe alimentarsi e generare le proprie risorse per esempio andando ad incidere su quella che è la tassazione anche un centesimo in più a sigaretta quindi non solo andando a disincentivare l'utilizzo di ciò che procura il cancro ai cittadini ma andando a trovare quindi automaticamente le risorse. Insomma le soluzioni possibili per poter offrire più salute più qualità di vita ai nostri cittadini ci sono. Abbiamo delle soluzioni innovative importanti dal punto di vista farmacologico quindi abbiamo nuove prospettive di vita quindi si può fare ed ecco perché è importante discuterne con piani strutturati in cui tutti i portatori di interesse possano esprimere la loro e trovare le soluzioni giuste per mettere al centro dell'attenzione le necessità e le esigenze dei pazienti, le necessità delle istituzioni e anche l'opportunità per la nostra azienda del farmaco in Italia di poter continuare a tirare gli investimenti per investire sempre di più per i nostri cittadini in innovazione.